Pesavo 98 kg, portavo una bella 48 kg. La nostra figlia di 9 anni ha manifestato i sintomi di una malattia strana, metabolica rara, che si chiama glicogenosi di tipo 5. La ketogenica nasce in natura come sistema metabolico di riserva nel caso in cui incassero carboidrato. Il cervello si lavora a tutti gli altri che bisogna di zucchero per l'energia. Questo è DALNAI, è un propaganda commerciale. La terapia del cancro con una dieta ketogenica realizza terapia metabolica. Si taglia il carburante alle cellule di cancro. La dieta ketogenica è stata usata nella pratica medica per la gestione dell'epilepsia e altri disordini neurologici. Ho avuto grandi problemi di salute 6-7 anni fa, un ictus cerebrale. Ho 81 anni, però mi sento piena di energie. Tutti questi problemi incredibilmente si sono risolti dopo anche solo 5-6 mesi di cambio di alimentazione. Attraverso questo stile alimentare invece ho riscontrato in pochi mesi già dei benefici, le analisi sono rientrate, la mia tiroide è rientrata nei parametri. L'allenamento ha dimostrato che pur levando tutti i zuccheri e i carboidrati si ha una maggiore energia. Sei mesi dopo che mi hanno riscontrato la leucemia ho deciso di qui intraprendere la carriera del runner. Sono finisher del Tour de Jean, che è una delle gare più estreme al mondo con la percentuale di finisher pari al 50%. Tra l'altro sono quasi tutti uomini, quindi essere donna e soprattutto il stile ketogenico. Purtroppo per lo stile di vita moderno, per i macronutrienti che noi ingeriamo attraverso sempre i carboidrati complessi, a sviluppare delle patologie intestinali. Mentre prima avevo bisogno di mangiare ogni 2-3-4 ore, massimo 5, con la ketogenica ho visto subito che potevo tranquillamente andare anche 6-8 ore. Da quando sono in ketosi non ho fortunatamente più preso nessun tipo di medicina. Ho ritrovato un'energia che pensavo di avere solamente a vent'anni e questo mi ha portato anche ad avere più entusiasmo ad essere molto più positiva. Grazie a tutti.